Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi facciamo una canalizzazione utilizzando, affinché ci possiamo un po' tutti liberare da ciò che ci trattiene, e uscire anche dal nostro antro, da quella caverna che in questo momento non è tanto la caverna filosofica di Platone nella quale conoscere noi stessi, quanto piuttosto un pozzo che ci sta togliando energia. Comunque, questa canalizzazione secondo me risulterà spunto di riflessione per molti, per molti di noi, mi metto anche io dentro. L'argomento qual è? Allora, ve lo contestualizzo un attimo. Praticamente, ci sono delle situazioni dalle quali noi vorremmo staccarci, ma perché abbiamo capito profondamente che è il caso di lasciarle alle spalle dobbiamo andare avanti, senza rancori. Portiamo quell'amore che abbiamo provato nel nostro cuore, però non deve essere più un blocco, né deve essere un alibi, né una scusa, né un qualcosa che ci trattiene, e ci impedisce di progredire e di procedere lungo la nostra strada. Cosa accade però? Proprio quando ci mettiamo a lavorare per staccarci perché abbiamo deciso di andare avanti, succede qualcosa per cui quella persona, quella situazione ci torna sempre dinanzi gli occhi, incontriamo sempre il suo volto, ogni cosa ci fa pensare a lei, a lui, un numero, un nome, o una sincronicità, un ricordo. Allora, quello che chiediamo alle carte. Perché ogni qualvolta che io sto per rimettermi in cammino, mi torni sempre in mente? Cosa devo imparare? Ovviamente l'intenzione, per chi segue questa canalizzazione, è quella di volersi comunque rimettere in marcia. Quindi vediamo perché, quando siamo lì per riprendere il nostro cammino, comunque arriva di nuovo con la catena a tirare più di prima. Cos'è che dobbiamo imparare? Vediamo un pochino. Vediamo un po'. Facciamo così. Prendiamo questa quantità di carte. Cosa dobbiamo imparare? Perché ogni volta che sono lì a riprendere la mia strada, convinta, convinto, carica, piena di energie, poi mi blocco perché mi torni in mente. Cosa devo imparare? A non perdere di vista l'orizzonte. La prima cosa che devi imparare è che il primo obiettivo sei tu per te stessa, te per te stesso. L'ideale che vuoi raggiungere lo devi avere sempre dinanzi ai tuoi occhi. Anche quando tra te e il raggiungimento di quell'ideale nel mezzo avresti mille scuse, mille alibi. Ah no, devo fare mille cose, devo prima fare questa telefonata, devo chiudere questo rapporto, ci sono le bollette da vagare, no però vabbè lo farò, rimando, no. Non è più il tempo di rimandare. L'unica cosa che puoi fare è che quando proprio ti senti ferma, non riesci a procedere, allora resta con lo sguardo fisso però all'orizzonte. Cioè non ti negare la consapevolezza di quello che devi fare anche nel momento in cui non hai la forza, non hai la voglia e non hai forse neanche l'intenzione effettivamente di farlo. Perché tanto dentro di te quell'obiettivo non sparirà mai e se tu cercherai di negartelo, di soffocarlo, inizierà a farti soffrire. Perché? Perché vuole nascere, vuole vedere la luce e vuole che tu diventi finalmente l'ideale di te stessa. Perché quello che ci deve attrarre verso il nostro orizzonte, quello che ci deve rimettere in cammino non è assolutamente l'amore per un'altra persona, è innanzitutto l'amore per noi stessi. Spesso noi non ci muoviamo perché? Perché tra il pensarlo e il realizzarlo vogliamo una motivazione valida razionalmente che ci spinga a farlo, che ci dia garanzia del successo. Eh no, il cammino, il cammino lo devi intraprendere, lo capirai solo una volta terminato. Nessuno ti può dare garanzia prima di averlo intrapreso. Ogni volta che mi metto finalmente in testa di andare davanti c'è qualcosa che mi fa ripensare a te. Cosa devo imparare? Devo imparare innanzitutto ad andare oltre le idee e le categorie mentali con le quali ho vissuto fino adesso e alle quali sono stata legata. Magari avevo un certo tipo di ideale di rapporto, avevo un'idea specifica di relazione, magari credevo un certo tipo di coppia, il matrimonio, devo imparare forse, devo realizzare un'ottava superiore, devo andare un po' più in lato, devo allargare anche la mia capacità di interpretare la realtà che mi circonda. E soprattutto non devo rimpiangere. Quello che non ho potuto fare non è un qualcosa che ho perso, è semplicemente una porta ancora aperta su qualcosa che non ho ancora focalizzato, che non vedo, che probabilmente potrebbe darmi di più, di meno, ma comunque una condizione adatta alla mia evoluzione. Non quello che penso io, perché potrei anche sbagliare in base ai miei desideri, ma quello che è giusto per me. Cosa devo imparare? Devo imparare che spesso non ci si libera da soli. Questa condizione di appeso, di sacrificio volontario, a volte se fosse lasciato veramente, semplicemente al nostro libero arbitrio, potrebbe protrarsi chissà fino a quando. Ci sono degli eventi della vita che a un certo punto ci costringono necessariamente a rimetterci in cammino. E quando saremo comunque liberati e resi autonomi dal destino, cosa faremo? Continueremo a guardare a quel passato che ci ha fatto soffrire? A tutte quelle situazioni che ormai sono andate in fumo? Rimarremo girate e daremo ancora le spalle a quello che è il nostro futuro, a ciò che ci sta chiamando. Perché in questo momento alle nostre spalle, per quanto ci vogliamo rassicurare o convincere o ostinatamente per quanto vogliamo rimanere sulla nostra posizione che non ci farà progredire, c'è ancora fuoco, c'è ancora qualcosa che non funziona, c'è ancora qualcosa di non risolto. E per quanto riguarda questa incarnazione, tra noi e quel qualcosa di non risolto, no, risolto, che risolto è anche un bel lapsus, ci sono delle montagne, cioè degli ostacoli difficili da varicare, ma soprattutto non sono quello che dobbiamo fare in questa incarnazione. Perché ogni volta che ci mettiamo in cammino, poi mi fermo, è perché resto legata ai ricordi, perché ogni qualvolta che io mi riprometto di andare avanti e decido di metterti tra le cose belle che mi sono accadute per riprendere in mano la mia vita, poi però cosa fa? L'argomento torna sempre sulla stessa questione e sono io a riaprire sempre quelle questioni, perché sono io che effettivamente non sono riuscita ancora a dare un taglio. Forse devo capire una cosa, dare un taglio non vuol dire dividere due cose per sempre. Quando si partorisce, se una madre si ostinasse a non dare un taglio a quel cordone umbilicale, alla fine ucciderebbe quella nuova vita, io devo capire l'amore, devo imparare l'amore a prescindere che è l'amore materno. Chi meglio di una madre può sapere cosa si prova quando ti tolgono di dentro, ma di dentro materialmente, un corpo che hai creato tu, che fino a due minuti fa palpitava il suo cuore vicino al tuo cuore, come può essere una qualsiasi relazione passionale ed amore. Farlo uscire, farlo nascere, tagliare quel taglionetto e dargli l'indipendenza con le sue gambette di potersene anche andare. Solo una madre può capire e la prima cosa a cui siamo chiamate in questa vita è imparare ad essere madri, sia che si abbia o non si abbia un figlio concretamente, perché una donna è madre di tutto ciò che ama. Ogni volta che devo mettermi in cammino, perché mi fermo? Perché continuo a temporeggiare. Ogni volta che la bilancia tende e protende e pende verso il mio dover fare il primo passo, ecco, io metto qualcosa sull'altro piatto che mi trattiene e rimetto la situazione in una condizione di stallo. Ed è così che mi fermo. Ma sono anche molto abile, perché poi, a volte, diciamoci la verità, io le cose le ho capite, però non voglio ammettere che sono io che non me le voglio andare in alcuni momenti. Allora cerco tutte le spiegazioni razionali, esoteriche, profonde e romantiche di questo mondo per giustificare a me stessa e al contesto che la mia volontà sarebbe quella di riprendere il cammino, però, ahimè, non sono ancora libera. C'è qualcosa e giustifico questo qualcosa come immenso amore, ma quello si chiama attaccamento oppure dipendenza, l'amore, quello non condizionato, quello che sa amare a prescindere sa anche accettare che la persona amata in un periodo della sua vita possa dover condividere il suo tempo con una persona diversa da noi. Perché? Perché magari quello è un pezzettino del suo personalissimo karma individuale. Cosa devo imparare? Devo imparare a sapere attendere e nel sapere attendere non disprezzare quello che ho. Ci sono mille forme di realizzazione, mille forme d'amore e anche se sono io al mio fianco non ci sei tu, la cosa che forse in questa incarnazione ho amato più di qualsiasi altra cosa, quella persona con la quale avrei dovuto celebrare e vivere questo momento di gioia familiare, ma non è un addio per sempre. Devo imparare a sollevarmi dalla pesantezza della terra, devo essere leggera, devo anche dondolarmi se a volte non riesco ad andare avanti allora mi devo concedere la tranquillità del riposo perché due sono le possibilità accettare che in questa incarnazione non ci sia data l'armonia che desidero ma non per sempre forse per un piccolo periodo che serve a capire qualcosa per poi incontrarci nuovamente nelle vite successive e quindi posso andare avanti decido di andare avanti perché so se a destino ci incontreremo di nuovo oppure decido di non andare avanti perché io ti voglio aspettare già da adesso ma devo avere la leggerezza di farlo in maniera positiva in maniera sana senza mortificare me senza mortificare la mia anima e senza neanche ammorbare né me né l'energia che ho intorno perché altrimenti inizierei a creare delle forme di pensiero molto pesanti e negative infatti ogni qualvolta che mi blocco inizio a rimuginare in maniera negativa inizio a piangermi addosso ecco che tutto diventa buio ecco che tutto diventa pesante invece di aprirmi alla possibilità del cambiamento del ritorno mi chiudo in me stessa però mentre dalla nascita alla morte ci si apre all'eternità se facessimo il percorso contrario dall'eternità tornando alla nascita ritornando prima ancora del concepimento finiremmo nel nulla al nulla che eravamo prima di esistere e forse la direzione giusta non è quella di chiudersi in posizione fetale è di aprirsi nuovamente lo stesso alla vita invece di stare così a terra appesantita a piangermi addosso alleggerirmi e titubante sì fare avanti e indietro come lo si potrebbe fare su questo dondolo non vado avanti è vero ma non vado neanche totalmente indietro e soprattutto non resto ferma ogni qualvolta che sono lì per riprendere il mio cammino mi torno in mente e allora penso che anche tu stai pensando a me e che forse dovrei venire a riprenderti nonostante tu mi abbia detto di voler stare da solo e a volte credo che magari è stato un errore mio ed è colpa mia ecco questo è un altro piccolo errore che probabilmente faccio perché se tu mi hai fatto capire che in questo momento hai bisogno di riflettere a prescindere da quale sia il motivo per cui tu debba riflettere a prescindere da qualunque sia il motivo che ora ti trattenga lontano da me io dovrei imparare a lasciarti andare dovrei concederti la tua solitudine perché non posso impedirti di realizzare delle prese di coscienza che fanno parte comunque del tuo risveglio perché come sono in cammino io sei in cammino anche tu perché ogni volta che sento di poter ricominciare mi blocco cosa devo imparare devo imparare che non posso accettare la bellezza dell'idea delle vite 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 solo pensando alle vite passate per avere una giustificazione per l'oggi cioè se tu sei la mia anima lo dimostra il fatto che siamo legati da vite e vite al passato perché questo è troppo facile perché il passato non è più è tutto già affrontato è semplicemente una giustificazione della mente voler credere nell'eternità indietro non voler credere nell'eternità avanti perché se io accetto l'esistenza delle vite passate per giustificare il nostro collegamento in questa vita che è vero e reale devo anche accettare che questa vorrebbe essere una delle infinite vite a seguire e in questa vita è possibile anche che noi non si possa stare insieme cioè non toglie che la pacificazione possa avvenire nelle prossime vite non posso poi quando qualcuno questa cosa me la fa capire volermi ribellare e dire non mi sta bene o adesso o mai più perché se il karma esiste esiste per tutti e se siamo separati probabilmente anche io qualcosa devo imparare anche se mi sto ribellando e se le vite sono eterne sono state le vite nel passato a vederci uniti potranno essere anche le vite nel futuro e devo imparare questa cosa non la devo solo capire a chiacchiero razionalmente la devo metabolizzare cosa devo imparare da questa esperienza dal fatto che mi torni sempre in mente quando in realtà vorrei riprendere il cammino ad andare ugualmente a guardarmi in faccia e a non ingannarmi che io voglio andare avanti o che io voglio restare vincolata a te non me lo proibisce nessuno perché dinanzi a me c'è l'eternità e se ho una lezione non la voglio imparare adesso la potrò imparare dopo il karma sa attendere a lui non importa non ha problemi di tempo e soprattutto non è una persona che ti punisce il karma è un meccanismo che ti educa ma quantomeno devo avere il coraggio di guardarmi in faccia e quando cerco una spiegazione esoterica profonda che mi faccia capire questi concetti e poi non la voglio accettare non devo cercare di chiedere spiegazione alla credenza esoterica del perché afferma quelle cose devo guardarmi in faccia e dirmi non sono pronta per capire questa cosa oppure l'ho capita non sono pronta per affrontarla perché sono un essere umano sono fragile ho dei desideri e ora voglio cullare il mio dolore allora cosa posso fare prendermi semplicemente tra le braccia ad essere madre di me stessa amarmi amarmi con tutto il mio dolore perché non c'è niente di male nell'essere sofferenti ma bisogna capire che quel dolore lo si sta abbracciando volontariamente cosa posso fare e cosa dovrei imparare che nonostante tutto anche quando qualcosa non funziona per come noi vorremmo anche quando qualcuno dei due ha ceduto il passo e non sta seguendo l'altro quello che noi dobbiamo fare l'unica cosa che nell'attesa possiamo fare è continuare il cammino è continuare a concretizzare è continuare a lavorare l'unica cosa che possiamo fare nell'attesa è migliorare noi stessi perché se crediamo effettivamente che tra noi lui noi e lei ci sia un legame carmico forte la consapevolezza di migliorare noi stessi ci deve rassicurare perché ogni acquisizione di metà anima carmica arriva anche all'altra metà e se io miglioro me stessa posso velocizzare anche il karma dell'altro e se io sto aspettando l'attesa si farà sicuramente più breve ed è sempre un ragionamento migliore che non farsi del male piangersi addosso avercela con il destino un ragionamento migliorare